L'aviazione israeliana ha portato a termine nella notte un raid nella striscia di Gaza contro presunti militanti delle brigate Al-Kholz. Due persone sono state uccise all'interno delle auto in cui viaggiavano. Si tratta di due giovani di 21 e 23 anni, considerati dai servizi del stato ebraico esponente del braccio armato della jihad islamica. I missili israeliani hanno colpito il nord della striscia nei pressi di Beit Anun. In un comunicato diffuso dopo i raid, l'esercito israeliano ha confermato l'uccisione di Ahmad Zahaneh, esponente del fronte popolare della liberazione della Palestina, già militante della jihad islamica. Secondo Israele, aveva pianificato i lanci di raddi in occasione dei funerali dell'ex premio israeliano Ariel Sharon e pianificava attacchi per i prossimi giorni.